Il nostro compito è quello di diffondere nel mondo il grande messaggio di Cristo. Mi è stato dato il dono della fede perché io lo dia ad altri, lo comunichi. Ci è stato fatto il dono della fede perché noi lo abbiamo a comunicare e da questo sarà giudicata la nostra vita. Ora, che l'uomo conosca Cristo, che l'umanità conosca Cristo, questo è il compito di chi è chiamato e il compito del popolo di Dio, la missione. Vi ho scelti perché andiate.